Tra pochi giorni l'Aquila saprà se è stata scelta come candidata per ospitare la 23esima edizione dei Mondiali di Master di Atletica Leggera, campionati che si terranno dal 16 al 31 luglio 2022. Questa mattina all'emiciclo il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci insieme al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha tenuto una conferenza stampa di aggiornamento e ricognizione sullo stato della candidatura. Per l'occasione è stato proiettato il video di sostegno che mette in risalto l'impiantistica sportiva cittadina, la sua capacità ricettiva e l'avvicinanza con la capitale. Ma per conoscere l'esito bisognerà attendere cosa accadrà il prossimo sabato a Malaga e Spagna. Sarà lì che si deciderà se l'Aquila, battendo la concorrenza di Tampere e Goteborg, potrà ospitare questo prestigioso evento.